Buonasera a tutti, nel mentre che c'è questo cambio di guardia, diciamo delle due bande, inviterei due presidenti delle due bande e il signor sindaco. Innanzitutto devo ringraziare tutti voi che siete qua presenti, l'ho già detto ieri sera, mi ripeterò questa sera, questa è una manifestazione che è stata ideata dal Consiglio Ambima per la possibilità alle bande di potersi confrontare con un pubblico diciamo nuovo e questo nome Banda Amica sta proprio a significare questo scambio diciamo alla pari, come dico io, tra bande. Infatti avrete notato che ci sono persone che hanno suonato ieri sera con alcune bande e questa sera sono di nuovo a prendere, proprio in virtù di questa amicizia che ci lega. Volevo far dire due parole al signor sindaco. Molto volentieri, soltanto per rinnovare il saluto a chi era già qui ieri sera e per dare il benvenuto a quelli che invece per la prima serata si trovano con noi. Come ho già detto ieri, il signor sindaco è particolarmente onorata nell'ospitare questa manifestazione, e quindi ringrazio Valencia e il nostro presidente che amperiamo tutti. Quindi auguro a tutti un buon ascolto e non mi dico buonasera e buon ascolto. Vorrei, il signor sindaco, consegnarsi le tue targhe alle due bande qui presenti. Volevo ringraziare le tue bande che hanno partecipato questa sera e quelle di ieri sera. Volevo ringraziare in particolare Valeria per tutto quello che ha fatto in queste giornate anche a genere di questa manifestazione e avrei anche un piccolo ringraziamento particolare da parte del Consiglio Ambiva per, diciamo, osteggiarci. Sì, beh, chiaramente è stata dura ma ce l'abbiamo fatto, che siamo quasi arrivati alla fine della manifestazione. alla fine è stato un gran piacere avere dei colleghi, sentirli suonare e speriamo che questa cosa possa continuare ancora nel tempo naturalmente io ho fatto tanto ma mi hanno aiutato anche altre persone come la Proloco, il Comune che ci ha dato il permesso e poi anche le bande che hanno partecipato quindi sono soddisfatta, sono contenta e soprattutto grazie a voi che siete tutti qua presenti a sentire questi miei colleghi e quindi grazie, grazie di cuore a tutti veramente Grazie per la parola Volevo ringraziare il Comune di Ocimiano, la banda di Ocimiano per la gradita invito sono stati splendidi nell'organizzazione quindi grazie di cuore infatti c'eravamo viste la nostra scorribanda qualche anno fa quindi è stato un piacere tornare e venire a Ocimiano e cambiare la visita ovviamente un grazie a Romeo e a tutto il consiglio perché lavorano tanto a volte è molto difficile cercare di fare queste cose quando riescono, come riescono da tre anni è un piacere per tutti quindi continuiamo così grazie a tutti, grazie a voi grazie a voi, grazie a voi 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 grazie a voi